La Costituzione italiana con l'articolo 9 dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Eppure il bel paese vive da decenni una cementificazione continua e selvaggia che sottrae ogni giorno centinaia di ettari all'agricoltura. Del resto la tutela del paesaggio non è solo una questione estetica, un fatto di bellezza. Al contrario, il paesaggio va tutelato anzitutto come luogo in cui vivere, come racconta Salvatore Settis, storico dell'arte e archeologo, che si è occupato spesso del paesaggio. Dal talk l'agricoltura di qualità tutela il paesaggio, organizzato da Terra Madre e Salone del Gusto by Slow Food. L'Italia è piena di misteri, ma fra i misteri italiani uno è come mai un paese che non ha nessun incremento demografico, anzi perderebbe popolazione se non ci fossero per nostra fortuna gli immigranti. E però continuiamo a costruire, 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 cementificare, 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 costruire autostrade anche dove non servono, linee di alta velocità anche dove non servono. E cementificando il terreno a scapito dei terreni più fertili, perché poi naturalmente si cementifica meglio, si costruisce meglio in pianura. L'Italia ha alcune fra le pianure più fertili del pianeta, basta pensare alla pianura padana o la pianura campana e proprio lì andiamo a costruire capannoni, case eccetera che non servono. Nel patrimonio artistico, paesaggistico e culturale dunque l'agricoltura gioca un ruolo fondamentale nel senso della conservazione. Accanto alle meraviglie della natura e ai capolavori dell'ingegno umano scorre il fiume della formazione delle nuove generazioni, ovvero la scuola. Non teniamo conto che più occupiamo suolo fertile, meno abbiamo pensato al cibo che ci dovrà nutrire, che dovrà nutrire non soltanto noi oggi ma le generazioni future e per tali bisogna intendere se siamo lungimiranti come dovrebbe essere logico, non solo i nostri figli ma i figli dei figli dei nostri figli. Credo che questa scarsa attenzione all'agricoltura, il fatto che si ritiene che investire nel mattone sia positivo, investire nell'agricoltura lo sia meno o non lo sia affatto, sia il portato di una cultura arcaica e di una cultura non aggiornata sui reali bisogni dell'umanità. Io penso che dovremmo da questo punto di vista ripartire dalla scuola perché se non usiamo la scuola, anche la famiglia naturalmente, ogni formazione sociale è buona per questo, ma se non ripartiamo dalla scuola per spiegare che l'agricoltura di qualità è la miglior forma di tutela del paesaggio, il paesaggio non è da tutelare soltanto perché è bello da vedere, quando è bello da vedere. È vero che la nostra Costituzione, l'articolo 9, dice la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione e non dice la Repubblica potrebbe tutelare, vorrebbe tutelare, dice tutela, cioè lo prescrive, lo impone a noi tutti come cittadini. Il messaggio fondamentale che la scuola dovrebbe dare ai nostri ragazzi, ma anche a noi stessi, alle generazioni future, è che il paesaggio e l'ambiente sono beni comuni, ci appartengono a tutti e quando si dice bene comune si intende non soltanto tutti i viventi, ma anche tutti coloro che lo saranno fra, non solo fra dieci, ma fra cento anni. Noi abbiamo ricevuto dai nostri antenati un paesaggio, un ambiente straordinariamente ricchi, abbiamo il dovere di consegnarli ai nostri discendenti più ricchi e non meno. Siamo i custodi temporanei di un'eredità che abbiamo ricevuto e il nostro dovere è saperla trasmettere alle generazioni future.